L'arte curiosa, questa magari la sapevi già o forse no, chissà, piccole pillole di curiosità che spero non sembrino supposte, simboli e significati nascosti, interpretazioni e spiegazioni sull'opera, quella cosa particolare sull'artista e magari sul fatto insolito legato a quella determinata opera d'arte. Ah, e già che ci sei? Dai, iscriviti al mio canale, dai 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 dai, ti prego ti prego ti prego, grazie! Caccia alla firma. Eh sì, perché noi oggi per dare valore a un'opera d'arte oppure per verificare che sia vera, che sia autentica, andiamo proprio a guardare la firma, andiamo subito in caccia. In basso a sinistra spesso la troviamo, ma guardate che non è sempre stato così, anzi, e non sto parlando delle pitture rupestri, dico proprio fino al 400, gli artisti non erano neanche considerati artisti e quindi non avevano neanche in mente di poter firmare le loro opere. Per esempio abbiamo il maestro della Pala Sforzesca, che è conosciuto proprio così, con il nome della sua opera più famosa. Poi certo arriveremo al 1800, dove Claude Monet inizierà a firmare le sue opere, con una firma anche ben visibile, e arriveremo poi a Lutrec, che addirittura si sceglierà un monogramma, quasi un marchio di fabbrica. Ma in mezzo a questi due accessi, cosa hanno fatto gli artisti? Per far capire alle persone che guardavano le loro opere che le avevano realizzate davvero loro. Ma gli artisti hanno sempre cercato il sistema per firmare le loro opere, in pratica senza firmarle, insomma lasciando una traccia del loro passaggio, un po' come i moderni graffitari. Sì, esattamente, guardate bene le pareti, perché spesso troviamo proprio lì la loro firma. Ad esempio Van Eyck, nel ritratto dei coniugi Arnolfini, oltre a autoritrarsi nello specchio curvo sulla parete in fondo, sopra ci fa proprio la sua firma, con tanto di data. Ma fa lo stesso anche Dürer, che nel suo autoritratto con i guanti, in basso sulla parete sotto la finestra, scrive proprio una frase che tradotta, significa ho dipinto secondo le mie sembianze, quando avevo 26 anni, firma e addirittura il suo monogramma, che diventerà, anche in questo caso, molto riconoscibile. Raffaello Sanzio è famosissimo presso i suoi contemporanei, è davvero uno dei big degli artisti del momento, quindi non avrebbe quasi bisogno di firmare le proprie opere, però insomma la soddisfazione è tale e la voglia è tanta, e quindi trova il sistema anche lui. Per esempio, nello sposalizzo della Vergine, nel tempietto centrale sul fondo, incide proprio il suo nome e anche la data, e fa un po' lo stesso quando nella scuola di Atene si autoritrae sulla destra, e fra l'altro è l'unico vestito di nero che fissa il pubblico, quindi insomma si può ben riconoscere. Poi certo, se hai il cognome giusto, firmi anche meglio, e firmi come? Con un'allegoria, Bartolomeo Passerotti, ovviamente, in ogni sua opera, inserisce un paio di Passerotti, perché? Perché praticamente è la sua firma. Arcimboldo è il maestro dell'illusionismo, i suoi ritratti che sono in realtà delle nature morte, che a volte però sono nature morte che sono ritratti, insomma, secondo di come uno le guarda, ci ha abituato allo stupore, e quindi, ovviamente, anche per cercare la sua firma, dobbiamo prepararci a stupirci. Dov'è la sua firma? Bene, bisogna ingrandire il collo di questa estate e guardare bene, un po' in controluce, nell'intreccio delle spighe, e si leggerà proprio il nome dell'artista. Ma Michelangelo Merida Caravaggio, dove avrà firmato la sua decollazione di San Giovanni Battista? Bisogna cercarla bene, e ricordarci anche che Caravaggio è un po' splattere, è un po' passione, è morte, è dramma, e quindi? E quindi guardiamo bene il sangue che cosa scrive per terra, la sua firma. Ma in certi casi, la firma diventa davvero parte integrante dell'opera. Diego Velázquez, per esempio, nel ritratto di Innocenzo X, fa tenere in mano al Papa un foglietto con la firma dell'artista accostato anche al nome del Papa. E per esempio, Dosso Dossi, invece, si diverte. Si diverte con un rebus. In pratica ricrea il suo nome ai piedi di San Gerolamo, con una grossa D lasciata quasi per terra, attraversata da un osso, Dosso Dossi.